C'è una forma geometrica che a me piace particolarmente. Il cubo è elevato alla terza. La nostra intenzione è creare tre singoli ambienti, ovvero la comunicazione, che è fondamentale per il mondo del vino, la formazione e poi il rapporto umano, cosa che vogliamo riprendere dopo la pandemia, quindi riportare i nostri clienti a contatto con i nostri famigli. La prima giornata è stata al di sopra delle nostre aspettative. Abbiamo cubato più di 1500 persone, questo è un numero incredibile. La reazione da parte dei fornitori è sicuramente positiva, anche perché ritornano ad avere un contatto diretto con tutti i clienti e da parte nostra e soprattutto da parte dei clienti non si vedeva l'ora di ricominciare ad avere qualcosa di veramente tangibile, qualcosa di reale, quindi ritornare a fare un brindisi anche con persone che ormai storicamente sono diventate amici. Circa 60 aziende oggi, la maggior parte sono quasi tutte le nostre importazioni, quindi a partire dalla Germania, dall'Austria, la Francia, la Spagna, la Slovenia, tante, tante, tante importazioni e tutte le nostre aziende a carattere nazionale che abbiamo comunque in portafoglia. Formazione e comunicazione è ritornare al contatto umano tra il produttore e il consumatore. Il Wine Cube è la somma di queste tre cose. Ognuna non potrebbe esistere senza le altre due. Un evento va comunicato, all'interno dell'evento bisogna fare cultura e se non ci sono le persone, intesa come produttore e anche consumatore, non ci sarebbe questa manifestazione. Il Wine Cube è, come dicevamo, un contenitore di persone dove si viene ad assaggiare il mondo del vino. Perimetralmente ci sono tutti i produttori, ben indicati, attraverso una piantina che viene consegnata alla reception, si va a scegliere quel vino che uno vuole assaggiare o assaggiare novità, piuttosto che annate nuove. Poi abbiamo la Master Class che sarebbe la parte culturale, ovvero queste famose sei Master Class sono necessarie per far scoprire i territori, per dare l'opportunità, per scendere più in profondità su alcuni temi. Sono temi importanti che sono più che atti alla vendita, sono culturali. Vogliamo far capire, attraverso questi temi, come si sta muovendo il mercato italiano e non solo. Tutto quello che stiamo facendo va a finire nella terza grande colonna, ovvero la comunicazione. Tante cose, se nascono e poi non vengono comunicate, non hanno senso di esistere. Partesa for Wine, la comunicazione che vogliamo fare è una comunicazione completamente differente, non scritta, ma attraverso podcast e attraverso video. AudioStory e DocuPodcast raccontano la storia dei nostri produttori, ma possono anche essere declinati a dei temi importanti, come l'utilizzo del bicchiere, alcuni argomenti tecnici, può essere l'acidità, la mineralità, la sapidità, cioè per andare incontro anche al consumatore finale. E video perché creeremo appunto questo Full Goal Wine Theater, in onore di Federico Fellini, sempre per dare un qualcosa di importante, nuovo, ma soprattutto culturale. Abbiamo questa responsabilità di creare cultura verso il consumatore finale e dobbiamo farlo attraverso questi mezzi. Grazie.